12 progetti per 21 milioni di euro, quelli licenziati dalla Giunta Comunale, riunita in seduta straordinaria all'Aquila nella giornata di ieri. Fondi che arriveranno dal fondo complementare del PNRR riguardano la programmazione delle due misure relative a rigenerazione urbana e a miglioramento della rete stradale comunale. La ratifica da parte della cabina di coordinamento avverrà prima del Natale. 16,4 milioni per la prima misura si interverrà in Piazza Duomo per sistemare pavimentazione, per riqualificare e illuminare, con 6,9 milioni di euro. Sarà riqualificata l'area compresa tra il convento della Beata Antonia e via Sallustio, con 610 mila euro. Sono previsti lavori per il collegamento meccanizzato tra il terminal di Colle Maggio e via Lerendina, con 1,490 milioni, stazione appaltante e il consiglio regionale in questo caso. E ancora sarà riconfigurata l'area antistante la Fontana dei Patitucci, tra via San Giuliano e via Madonnafore, con accesso migliore e parcheggi con un milione di euro. Altro intervento è la riapertura del collegamento tra via Leovidio e la Fontana Luminosa, con 600 mila euro, ma non solo. Sarà sistemato il piazzale Simoncelli sul Gran Sasso, con 1,7 milioni, che comprendono anche la realizzazione del collegamento meccanizzato alla stazione di valle della Funivia. Inoltre, a Piazza del Teatro e via Verdi, prevista nuova pavimentazione, riqualificazione e illuminazione, con 1,750 milioni. Sarà riqualificata pure Piazza Palazzo nel tratto di Via Roma, con 1,650 milioni, ed è prevista infine la riqualificazione di Piazza Chiarino, con 700 mila euro. La seconda misura prevede invece 5 milioni, 2 milioni per l'estale delle frazioni zona ovest, altri 2 per la zona est, 1 milione per il centro. Andreva ad intervenire su luoghi simbolo della città, oltre che su due pezzi fondamentali legati al turismo naturalistico, che sono Madonnafore e Piazzale Simoncelli su a Ponte Cerreto. E poi intervenremo sulla rete stradale, che è molto ampia e ha anche tantissimi problemi. Ma non sono le uniche misure, ce ne saranno altre, sull'impiantistica sportiva, sul turismo, sulla cultura. E poi procederemo su tutti i bandi per le imprese. Insomma, siamo all'opera per continuare questa grande attività di rilancio dell'immagine della città dell'Aquila, e anche di sostegno al mondo produttivo, che ne è l'ossatura fondamentale. Il PNRR potrà dare tanto all'Aquila, anche le scuole di formazione avranno un ruolo molto importante, anche dal punto di vista del movimento economico. In maniera definitiva abbiamo disegnato la traiettoria dell'Aquila del futuro. Non è fatta solamente di parole, non è fatta solamente di progetti, ma è fatta anche di risultati concreti, e soprattutto di una formazione, di un'occupazione duratura negli anni, perché non sono interventi sport come quelli che sono stati annunciati in passato. Grazie. Grazie. Grazie.